La lingua greca era, nei secoli, ha salvato Grecia. E' molto importante per tutto il mondo, perché la letteratura greca ha aiutato e ha dato tanto in tutte le lingue. Noi, D'Aschiano, è una piccola isola, però, 30 volte alla settimana ha contatto con l'Italia, con 8 città italiane. Il più grande scrittore della greca si chiama Papa Diamantis. Il più famoso romanzo è L'Assassina. E' molto nota, perciò mi pare che era un'opportunità di essere qui, di parlare con questo grande scrittore greco. Complimenti per questo giorno a tutti, al liceo classico Cairoli. E mi pare che avete fatto più di noi per la lingua greca oggi. Grazie. 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 Grazie.